Un po' l'ho pagato perchè comunque Zagaria, quello e quell'altro, io ho dati tutti dentro Cioè, se può trovare roba solida come se può trovare la merda Spero di vedere qualcosa di carino Spero Dai, please E' il terzo parete sin due giorni E che cazzo ce devo fa' Secondo pick magico Ma proprio magico, magico, magico Che poi non costa tanto Va bene, no? Però, boh Però, vedi, è buono Se te manca è buono, se ne hai trovati tre e non scambiabili una settimana è un po' meno buono Quello potrebbe essere il problema Trefutis, Ligan, la scelta La scelta pazza Questa è Neymar, me lo sento Neymar, Mbappé E Zambia Così Una ricca cagata Complimenti Il video va sempre su, quindi risulti ultimo Di conseguenza, forse non dovresti farlo Ia Z C Quanto costa sto campione? Ho giusto un SBC, appunto Come al solito Solito sculato Che ne altro Il batiglio potente Shakerata X Buono Ce sa Da quello che ho capito ha solo varietà di quelli buoni utilizzabili Però alla fine Ce po' sta Ce po' sta Cizzi È buono Solo mettere un builder è buonissimo Secondo me Beh, ma Più che altro parete se sta sui 100k Mamma mia Guarda che roba Poi c'è manco una bruttissima carta Ma mi sa che rimane Non so se magari Dicevo VL Punto C'ha torto ogni dubbio C'ha torto Bravo Passa sto bad Ho dei pacchi da aprire Una cugna che non scambiabile Dove lo fiondo O nell'87 e più Oppure dove lo fiondi del transistico Sistico pare tanta roba Tanto io mi stavo a favvierare Quindi da paura Ho quasi finito Te dirò Di Maria almeno Ce n'è se vuoi sapere Bamba pure ne è brutto Contro è sempre un fenomeno Tanto Poi lo compri te E non c'hai le gambe Però è un altro discorso Forse mi viene l'angle Il 95 È bello Allora lui Gli sta da Comunque Gli ha dato Il 90 Madonna Gli ha dato Il 95 Il 94 Vediamo che combina Però insomma Bella Dispendiosa Mamma mia Che merda Tu bustoni Che poi Colovin Avevo mezzo provato Era pure simpatico Ma era Un fregnetto così In game Pure che aveva un 80 48 De testa Buono Andiamo 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 Ligan Guarda come glielo Shakero tutto Oddio 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 Che sonno Oddio 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 Che sonno Vabbè Paretes E' buono Perché Che fonte Paghe da pure All'insepono Vedi Ma sto Paretes Che stanno A lanciare Eh Sotto i 100.000 Infatti Per cosa Stanno a lanciare Lunga e largo De conseguenza Vuoi o non vuoi Dai Passa Passa Che qua Famo la magia Famo la magia Chi è Eccolo Magia Magia Incredibile Infinita Yazish Anche Anche perché L'art Di due Non se vanno Guarda Mi dispiace Però Perché insomma Vanno Una merda Vanno Vai Negozio Sabiz C'è Un'bella Robetta Non scambiabile Vediamo un po' Qua Se riusciamo Effettivamente Ah Vabbè Bamba Sicuramente Bamba Ma quanto Sarà 50.000 Crediti Praticamente Sì Buono Bamba Bamba Vabbè Dai Manco male Aiuto Ha dei colori Tutti sparati Verratti Cacciatore Ombra Pure Hang Boh Cacciatore 3 più 10 De velocità Ma in realtà Cambia poco Forse cacciatore Tanto il fisico È già quello che è Mamma mia Ma sei sempre I stessi quattro scemi Che merda Veramente Va bene Se te l'apro Te l'apro Che sbocco Incredibile Le Manna 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 Ci stiamo Manna 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 Eccolo Eccolo È pronto È pronto È pronto Il pic Incredibile Questa è una sculata Questa Questa è buona Questa è buona Vai 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 Eccolo Stiamo quasi E Vabbè Tanto Valvo È sempre Lui che scula Quindi tocca Stacce Facciamo Siamo Siamo Voto Futis Che Boh Non Non lo so In realtà Sono indeciso Tra i due Campioni Perché Vabbè Votato Di Boh Vota Mendes Sti Cazzi Perché Poi Effettivamente Centrocampo Un brasiliano Così Potrebbe Madre Ma 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 che è Stamone Sapirgli Il Mazza A meno Che non Vuole Cagli Enrique Se sto Le fa Quelle Quei Cosi Mamma Mia Uro Ma che fine Ha fatto Not Bannato Cotto Allora Sorenato O Tu Fanno Ucci Venerdì Però Non Penso Boh Come sai C'ho Qualche Dubbio No No Che sbanno Quello No Eh Sì Per carità Paretes E' Buono Certo Però Sempre 80k Uno Un po' Più Capito Uno Un pochino Meglio Vorrebbe Vedere Pur Ero Che Pochino Meglio Vuol Dì Némare Mbappé Però Insomma Via 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 Il pic Il pic Il pic Il pic Bello Bello Uno e due Uno e due Vai Apri 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 Oddio E' De Neymar Ma se può trovare C'è ma la domanda mia Effettivamente Se può trovare Neymar Ma pure Mbappé Beyerder C'è Beyerder Non mi pare Di stare a cercare Chissà Che cosa Che cazzo Dammelo Ben Registrazione Fammi vedere Liganna Ok 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 Ma no Vede tutto quanto Andiamo a vedere Dai un top Fammelo vedere Iniziano a essere tanti Sti picca aperti Per piacere Mamma mia Ma come Gli acizzi Golovine Cosefonte Golovine Già posseduto E ma se Gli toccheranno A dei ricchi Cosefonte Per buttarlo Dentro Una fantastica Sbc Manna Va Oh Bacca Sto picchettino Pazzo Vai 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 Eh Toccherà Vedere come funzionerà I primi immediati Sto picchettino Sto picchettino Paccobono Beh Quello discreto Che poi Se ci pensi A me Che ho parete E sta andata pure bene Vedendo i picchi Peccato che È il terzo Che trovo Non scambiabile Se no È andato pure Decentemente Certo E fallo Io ho dato D'un 95 Però Malefico Renato Beh Fammi vedere Fammi vedere Che propone Questo videogioco Da voglio trovare Un Neymar Pure Mbappé Un Beyerder Pure Beyerder Ma contento De poco Ma contento Dai Su Oh Il mazzo Gli acizzi I gemelli Tergoli Mortacci Loro Ste pippe Del cazzo A chi ha gli acizzi Per forza 4 a 4 4 a 4 Ma mi sa che Lui fa solo Sbc Se ha cagato Del cazzo De tutto Lancia tutti Per forze Ah butta la talla E fa se a foot Si dice dietro Di Maria Sta a chiappo A chiappo Incredibile Ma Di Maria Per curiosità Quanto sa Massa Peps Sei troppo forte Mica come me Che me ne ho snapperato In 10 secondi Grande Peps A fare Andiamo E beh Sì Devo dire Il drop E non è male Si so come Far di C Dopo da Guarda c'è giocavo Con l'Europa League A suo tempo Dici Quindi Te posso dire Si Mamma mia De novo Oh ma gli acizzi Fisso Gli acizzi Il mazzo Caio Enrique Quel coglione De Klaus Pure Sono Sono Un disastro So Sti cazzo De pic Di Maria Mamma mia Che roba Benjamine Andrè Allora Allora Vabbè Sparato Futtis Totibopi Ma una volta Uno Me ne frega un cazzo Chi esce Più che altro Centrale Alican Manca Ah no Vedi In musica Si ragiona Cioè Centrale Alican Manca Il problema Del centrale Alican Qual è Che pure che manca Da noi non le ho vendute A 900.000 Cioè pure che manca Ragazzo Che è forte Quello che vuoi Poi ne devi affiancare Un altro Che non c'è Comunque Boh Non mi pare niente Che nel centrale Nell'altro Passa 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 Giocando con Lost Totibo Votato Che poi Totibo Aveva la carta Con 5 De debole Mi pare Aveva una carta Speciale Che era enorme Lui 80 De velocità Aveva una bella Carta Totibo Che si incapoccia Manna 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 Mazzà Che bomba Mamma mia Esagerato Mamma mia Sa che non doveva Veramente Ma non doveva Da tutti sti giocatori Così forti Ma esagerato Proprio Che boost Ma che è qua Ha lanciato tutto Quello che gli era Rimasto De inizio gioco Ma Inizio Stanno a parlare Di carte Quelle Proprio iniziale Ha fatta la giocata Perché Manna Ha buttato Lì così E noi Apriamo Subito Che ho trovato Ha provato Te è piaciuto Pagata Golovine Ti è beccarsi Tu campioni Registrazione Bello Grazie Vediamo un po' Che c'è Stava Va bene È possibile Fanno veramente Vomitare Basta Non voglio più Vedere Futti Seligan 24 e 27 Non penso Proprio Golovine Eeeh 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 Fammi vedeva Buono Buono Vi è Porta A casa Porta Questo motivo Dei fa Ciampi Sono convinto Di averlo Già visto Questo pick Ma sta un po' Arto Ah Ha messo 94 De rosa Vabbè Ma sei Ma sei Sicuro Ma io Ma non vorrei Sì nel senso Tampo arto stai Cioè potresti mettere tu bronzi Gli ne ha fregato un cazzo Ha mannato Ha proprio lanciato dentro la squadra di testa Sforbiciata Che culo di Ember 5.5 Più a sto fenomeno Sì sì questo è buono Questo è buonissimo